Ciao ragazzi, oggi video di outfit, sto andando a lavoro, quindi ho un abbigliamento appunto per lavorare, faccio la cameriera, quindi insomma, devo vedere come sono vestita, da su, dai capelli a parte questo tupettino, l'ho lasciato perché ho tipo i capelli simili mossi, quindi sto lasciando in questo modo in modo che mi vengono un po' più mossi, anche se dopo li raccolgo in una coda in questo modo. Allora, cominciando da qui, ho semplicemente questa collanina che l'avevo preso da, mi formi due anni fa o l'anno scorso, non mi ricordo, che avevo pagato con lo sconto 3 euro invece di 6,50 euro, insomma, giù di lì, poi come maglietta, ho questa maglietta qui di, non so che marca, l'avevo comprata a marzo, quando sono stata a Roma, l'avevo comprata però da Athletics World, quindi in tutti gli Athletics World tranquillamente la trovate, c'è scritto I love New York e l'avevo pagata 19,95 euro, quindi 20 euro. Poi ho questo gelettino, come a volte capito mi piacciono i gelettini, questo qui, che vi avete fatto in questo modo, anche questo qui si può tranquillamente chiudere in questo modo, ed è di Calliope, l'ho comprato con gli sconti di gennaio e l'ho pagato 3,99 euro con gli sconti. Poi ho un jeans, che vi faccio vedere subito, che mi avete visto in un haul, sull'haul, quello dei saldi, insomma, che ho comprato da Telly Whale, appunto molto skinny, come potete vedere, e l'ho pagato 10 euro, perché c'è la promozione, quindi ogni jeans 10 euro, questo qui, e poi come scarpe ho le Converse, che, grazie, so che non è proprio carina l'inquadratura, ma, insomma, questa qui è il... sono le scarpe. Ho fatto un trucco abbastanza particolare, la faccio prima mobile, un l'ombresso, quello che vi ho fatto vedere, della collezione Semi Prejuice di MAC, il Jazz Fortune, poi ho usato, un... per sfumare leggermente, un color, diciamo, senape verde, più verde che senape, poi ho usato l'eyeliner, il... quello verde di Essence, mascara, e poi ho applicato questi glitter, che sono sempre di Essence, che penso non trovi a te, sulle guanze ho due differenti blush, uno è il Green Frizz di Kiko, questo qui, nella Kaleidoscopic, di questo colore, e poi sopra ho applicato il Pichichin di MAC, niente, sulle labbra, il mio solito burro cacova al cocco, e niente, questo è l'outfit in generale, cioè, non ho niente ai polsi, e ho però gli orecchini di perla, che non possono mai mancare, questi orecchini color madre perla, e niente, io spero che questo outfit vi piaccia, è molto semplice, perché appunto sto andando a lavoro, spero che vi piaccia, come sempre, fatemi sapere nei commenti, e vi mando un presto bacio, ciao!